Pistoia torna protagonista del calzatoriero con la dodicesima edizione di Toscana Fashion. L'appuntamento è fissato per domenica 25 settembre fino a martedì 27 nelle sere del Toscana Fair di Via Bonellina. Gli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e dal centro Italia avranno così modo di conoscere in anteprima 150 campionari che comporranno la collezione Primavera-Estato 2023. Una grande vetrina riservata agli addetti ai lavori che consentirà di mettere in mostra le ultime tendenze che percorrono il mondo del calzatoriero oltre a cape di abbigliamento e accessori. Parte domenica la dodicesima edizione di una iniziativa importante per tutta la filiera moda perché 20 agenti di commercio del settore metteranno in esposizione, quindi presenteranno 150 collezioni di aziende per la primavera-estate del prossimo anno a tutti gli operatori commerciali del territorio, quindi di tutta l'area nord della Toscana. È un evento che conferma il suo successo in un momento non semplice per quanto riguarda le previsioni dell'economia. L'associazione continua a sostenere le aziende associate anche con iniziative di questo genere. C'è comunque grande interesse, grande fermento e quindi saranno tre giorni di incontri e di acquisti per i nostri associati in questo settore veramente importante.